allora buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di lo sai o non lo sai ha ragione o non ha ragione allora stasera la prima puntata vabbè è uguale e stasera c'è un quesito domanda nella famiglia marito e moglie lasciamo stare il figliolo che è di là tanto lui è un vagabondo di natura nella famiglia marito e moglie chi è che deve andare a buttare la spazzatura rispondete nei commenti secondo me alla pari o la donna secondo lei dice no solo di uomini no da quando è mondo in mondo l'uomo butta la spazzatura in casa punto vabbè soprattutto in una casa dove la donna lavora soprattutto perché buttare un sacchettino di spazzatura non costa niente va bene scrivetelo nei commenti grazie grazie